Buondì, oggi vi volevo raccontare un episodio un po' sgradevole, diciamo imprevisto, che mi è capitato ieri. Purtroppo non ho avuto modo di filmare la situazione perché c'erano delle persone che mi stavano aiutando a risolvere la questione e l'ultimo pensiero era quello di filmare la disaventura. Anche perché, come al solito, gli imprevisti capitano sempre quando devi smettere di lavorare e puoi evitare di fare tardi. BAM! Succedono queste disaventure. Allora, ora vi mostro una modifica che è stata fatta dove stiamo lavorando qui a Tavistacce Nord per portare il materiale di scavo delle gallerie dall'azienda dove la lavorano. C'è stata una modifica, ok? C'è stata una modifica per andare a caricare. Vi faccio vedere questa modifica. Allora, ricordate il video che vi avevo mostrato un po' di tempo fa, qualche giorno fa, in cui per caricare salivamo su per quella montagna, ok? E vi avevo mostrato la salita ripida che c'era da fare e ancor più difficoltosa era la discesa da carico, ok? Ora per evitare che quando piove non si possa lavorare, visto che quella discesa appena piove, pioveva, diventava viscida e tra il fango dei mezzi, delle ruote e la pioggia diventava una saponetta tale da non permettere di lavorare, ok? Perché si saliva su e anche da vuoto, dalla salita era un problema, va bene? Allora, per evitare questi problemi hanno creato una pista dove noi andiamo a caricare giù, giù, giù dalla montagna, ok? Ricordavate bene, se ricordate bene dopo l'ingresso qui sulla sinistra c'è la pesa e poi c'è quella, quella strada dove scende quel furgone, dove si sale, no? Per andare appunto, per andare a caricare. Adesso invece hanno creato una pista, si gira invece di girare a sinistra, si gira a destra e si va sotto la montagna, ok? Sotto la montagna di terra prodotta dallo scavo delle gallerie, a destra c'è un fiume e a sinistra la montagna di terra che deve essere portata tutta in quella azienda dove c'è la lavorazione, ok? Dove fanno lo stabilizzato. Allora, come potete vedere, l'escavatore sta su, sta su, sta sotto, sta sotto la montagna, ok? I mezzi, noi ci parcheggiamo bene, per essere caricati, e la prima balla ci si fa. Ora, una volta caricati, ovviamente si viene in pesa, come succedeva in passato, quando ci sale, poi una volta pesati, ovviamente si fa questa strada, no? Questa strada che porta all'uscita, all'uscita. Ieri, dicevamo, erano le 15 e 20, ho iniziato a più avvicinare, ok? Iniziato a più avvicinare, io stavo caricando e più avvicinavo, ok? Questa pioggia poi è aumentata, ok? e io, ehm, sono arrivato in pesa, ehm, dove la pioggia, fine, batte, era molto battente, ok? Tant'è che mi sono bagnato anche, ehm, la felpa, questa sono proprio, avevo questa felpa con il cappuccio, e, ehm, mi sono bagnato il cappuccio quindi resistente, piccola ma insistente, bella e resistente. Ho fatto la pesa, fortunatamente sono all'interno del mezzo la seconda, ridotta, e piano piano ho detto per evitare problemi quando piove quindi questa quella discesa qua che ora mi rimane non sarà un dramma invece proprio in questa discesa io ho superato la pesa ho frenato e non si è capito più niente ragazzi partiva tutto non riuscivo più a fermarlo sono arrivato qui e mi sono fermato mi sono fermato perché continuava comunque a piovere esistentemente e se frenavo perché comunque dovevo frenare perché non è che poteva andare con la guardate che strada non è che poteva andare con la prima comunque dovevo dare un certo tocco di freno quando si frenavo il il trattore era ingovernabile ok poi vabbè quella è la discesa quella quel tratto è piccolino e poi si arriva in questa strada ok questa strada un po più larga vedete a terra c'è il cemento e un attimino attutisce il il cemento sulla destra e sulla sinistra c'è ora c'è la polvere ma ieri c'era il fango ma il problema era era qua questa curva questa curva già da da sta ad asciutto devi andare piano piano perché se tocchi un po di più il freno te ne vai dentro al al pilastro la che stanno facendo quindi la situazione è che io mi sono fermato perché non potevo più andare avanti perché se andavo avanti dicevamo dovevo comunque tenere un po il freno pigiato perché non è che non potevo lasciare il mezzo così a cazzo scusate il termine dovevo frenare se frenavo però le gomme davanti non riuscivano a trattenere il peso che era oltre 560 ok allora il problema ora dove erano le 3 20 più o meno come ho detto tutti gli inconvenienti capitano sempre a fine a fine giornata quando tu stai e quella era l'ultimo viaggio io sarei andato arrivato allo scarico poi da lì andato a tre bisacce ho lasciato il mezzo e 4 e mezzo 5 e un quarto sarei partito con gli altri colleghi ok quindi mi sono un attimino preoccupato per capire come cavolo adesso risolvere una questione perché di piovere continuava a piovere seppur poi dopo una mezz'ora ha terminato di piovere combinazione proprio sono stato veramente fortunato che si è messo a piovere proprio dal momento in cui io stavo caricando però ha smesso di piovere però c'è oramai l'anno si poteva più più ragionare non è che dici che usciva il sole e avrebbe e avrebbe risolto la questione avrebbe asciugato la pista no la ramai la situazione è una compromessa ok quindi com'è un benissimo fuori e sono venuto fuori chiedendo aiuto agli operai che erano lì e in un primo momento si era pensato a mi dovevano tirare da dietro con la ruspa con la pala gommata no? avremmo attaccato la catena alla pala gommata stanno dei dossi di merda qua e devi andare piano 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 ma seppur andando piano 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 vedete come è la situazione di questi dossi di merda ne stanno cinque e tu devi andare piano 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 se no spacchi tutto e salti dalla catena situazione che vi stavo raccontando quindi si era pensato in un primo momento e con la pala gommata che era arrivata il soccorso il mio soccorso con le catene si era pensato di tirarmi tirarmi da dietro ovviamente tirarmi farmi evitare quella discesa che c'è dopo la pesa avete visto quindi tirarmi io sarei dovuto andare oltre la pesa e poi fare la strada quella principale diciamo ok però poi abbiamo capito che io a marcia indietro avrei un attimino trovato difficoltà a posizionare il mezzo visto che era comunque non stava dritto quando è iniziato a scivolare dopo aver ripesato ok quindi sarebbe stato difficoltoso io in quelle condizioni mettermi dritto per passare la pesa e superare e mettermi sulla strada principale ok allora si è pensato alla seconda opzione la pala meccanica la pala la pala gommata dietro sempre che mi teneva da dietro e io avrei continuato a fare quella stradina piccolina dopo la pesa che mi porta sulla sulla strada principale diciamo poi piano piano la pala gommata mi avrebbe intanto fatto un quarto d'osso poi c'era un altro l'ultimo di merda mi avrebbe portato mi avrebbe trattenuto perché senza la pala gommata io sarei andato direttamente dentro al pilastro che stanno facendo non avrei più gestito il mezzo perché con 560 quintali la strada era una saponente se io anche con la prima ridotta era impossibile avrebbe preso avrebbe preso velocità visto che la discesa l'aveste vittorio quindi la soluzione è stata che la pala gommata mi teneva e mi avrebbe portato fino alla curva avete visto dove poi sulla sulla destra c'è la c'è la come si chiama il pilastro che stanno facendo va bene poi una volta lì c'è una piccola salita e avrei superato la situazione e così abbiamo fatto fortunatamente non ho perso tanto tempo perché poi alle 4 e 35 io ero a trevisacce a partiggere il camera non sono più potuto andare a scaricare il rimolchio sono andato stamattina però è stato veramente una situazione inconveniente che capita sicuramente facendo questo lavoro visto che sono inconvenienti che magari con la linea non succedono facendo il cavacantiere col cavacantiere non succedono volevo voglio dire che le strade che percorro facendo il cavacantiere vi portano a questi a questi disagi disagi che sono differenti da i disagi che incorrono i colleghi che fanno la linea che percorro strade diverse sicuramente avete visto lo short che ho fatto in che condizioni è ridotto il mio rimorchio ma non solo il rimorchio ma anche il trattore perché questa pioggia che non è solo avvenuta ieri ma anche l'altro ieri ha provocato un po' di melma e di pozzanghere e quindi si sporca di niente questa è la situazione che vi volevo raccontare io sto caricato e ora sto andando a scaricare e poi la giornata questa giornata di oggi è terribile oggi c'è un bel sole fa molto caldo siamo a 19 gradi e pioggia fortunatamente oggi non se ne vede proprio vabbè intanto io ho finito oppure che vorrebbe ovvero più veste a me poco a me frica tutto qua ragazzi buona giornata ci si vede al prossimo racconto